Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video della Stoneblock 2 della serie delle 7 Perché sto sorridendo? Perché inizieremo con una cosa che farà questo episodio Vi ricordate cosa ho piazzato vicino ai polli l'ultima volta? Ho piazzato il pedestallo con dentro il Watch of Flowing Time Ho scoperto che è un po' bugato il Watch of Flowing Time È leggermente un po' bugato Come vedete nel mio inventario ho una Magnum Star Veer Che è stato relativamente complicato a craftare Come vedete insomma è molto impegnativa L'EMC di questa stella è di 7 miliardi 7 miliardi all'incirca, poco meno, la popolazione mondiale attuale Quindi per fare il passaggio successivo ho bisogno di 7 Guardate gli altri 21 miliardi di EMC Non sono pochi i 21 miliardi se proprio dobbiamo dirlo Ora io ho realizzato la farm di uova di drago Però non avevo fatto una cosa Non avevo messo il piedistallo qui vicino Ora è spento Ok? Perché è spento? Se io provassi ad accenderlo Cioè già da spento va molto più veloce eh? In teoria Proviamo ad accenderlo Proviamo ad accenderlo e vediamo che cosa succede Siete pronti? È caricato al massimo ovviamente Quanto abbiamo 10 Dragon Egg Essence che vengono raccolti E poi vengono scaricati Come vedete la frequenza è questa Io ho i miei Energetic Infuser Resonant che carica una manietta Ho dovuto fare un'aggiunta Ah tra l'altro ho creato i Ender Energy Conduit Che riescono a trasmettere fino a 20.000 RF a tick Ho cambiato tutte le cose Tutti i cavetti del caso C'è avuto un po' Non ho cambiato questi di qua ad esempio Questi di qua non li ho cambiati perché Non mi sembrava il caso Non utilizzo chissà quanti macchinari di qua Da aver bisogno di cambiare i cavi Magari un giorno lo farò E ho anche aggiunto una batteria Perché ora vi farò vedere una cosa Che cioè è decisamente OP Ho aggiunto questa batteria che contiene 50 milioni di RF Quindi 50 milioni sai che 50 milioni è più di quello che mi regge questo Ho sbaglio No questo fa 125 milioni Però sono 5 contro 1 Se metto 5 di quelli assieme arrivo a un quarto di miliardo Non è poco Fatto sta che ho dovuto inserire questa Altrimenti i miei Energetic Infuser non reggevano il colpo Guardate cosa succede quando clicco col destro qua sopra Genero una quantità di Dragon Egg Essence Che ha dell'incredibile Molti di questi non riescono manco ad andare avanti Perché c'è tutta Non riescono a tenere il colpo comunque Nonostante ci sia energia a manetta Riescono a caricare davvero davvero lentamente E guardate quanta ne produco Beh neanche tantissimi Ma perché non ne produce tanta? Doveve produrne tanta? Ne sta ricevendo tanta Ma dovrebbe produrne molto di più Sta producendo una grande quantità Ma sono arrivato ad avere 30 mila pezzi Ah ora Ora sta ragionando Ora sta salendo un po' Ma neanche No ragazzi ma Cosa che non va? Forse qua va troppo veloce? Perché c'ho in fast? Forse è quello? No comunque è velocissimo Sì mi sta generando un botto di roba Guarda sono a 600 Dragon Egg di già Però dovrebbe andare molto più veloce di così Proviamo a spegnerlo E attivarlo premendo Il 5 Ok Di base come vedete Va molto veloce Senza neanche teno sul piedistallo Se lo metto qui e lo attivo Dovrebbe andare veloce Però è che non va veloce come andava Vi giuro raga mi sono spaventato Quando l'ho provato la prima volta Mi sono usato con 40 mila Dragon Egg Essence Non so da dove Ed era una bestiolina Comunque io posso prendere qua i miei Dragon Egg Che non sono per niente pochi Vengo qui Li brucio tutti Li inserisco nella mia stellina E finché non arriverò Ora c'ho un miliardo e 400 mila Finché non arriverò a 7 miliardi e 8 Non potrò prendere Anzi no perché dovrebbe fare Cosa sarà tipo 6 miliardi Se non ho messo coso 6 miliardi Però qua c'ho un botto di roba che posso fare Va bene non mi interessa Cos'è sì tipo 6 miliardi E quindi mi servono Un'altra 20 anni miliardi Perché non è preciso Io qui speravo andasse più veloce Ti giuro mi è sceso un po' Perché mi dispiace non avevo registrato A questo punto Era incredibile Cioè vedavi tutte le piante Che andavano a una velocità Incredibile Ma davvero incredibile Cosa avevo così tanto Dragon Egg Essence Che non ce la faceva a passarle di qua Ora è vero che ho aggiunto Gli extract speed upgrade Però Comunque Ah beh ha già fatto 100 uova In effetti stanno molto veloce Qui sta continuando a caricare tutte le Acceleration wand Eh però vedi ad esempio qua ce ne sono tutte Tutte in uno Che senso ha sta roba Non ha senso L'unica cosa mi viene in mente È di bloccare L'inventario Come si fa È da ragionarci un po' Però In realtà neanche troppo Se io Non picco Questo Ma metto Upper left slot only Utilizza solo questo qui Nel momento in cui utilizza solo questo qui con i right click Tutti questi sono utilizzati Li metto come Extract Power item filter Mi piaceva mettere anche un altro filtro però Perché se ad esempio io vado a inserire Non lo so Degli stick Che non hanno energia Me li leva Me li leva Se io metto qui degli stichettini A posto di questi qua E provo a fare così Me li leva o non me li leva Non me li leva Perché non hanno energia Però nel momento in cui io vado a mettere questo qua dentro e lo carico Magari viene messo la No non viene messo la dentro però Uno di questi verrà messo qua dentro Se funziona sto coso Che sto costruendo Ha una certa Vabbè mettiamolociolo a mano Questo viene utilizzato Quando finisce Viene espulso E può essere rimesso Teoricamente Dovrebbe funzionare questa tecnica Quindi Riempiamo di stichettini Così ce ne può stare solamente uno In ognuno Potrebbe avere senso signori Potrebbe avere addirittura senso Ah mi stupisco di me stesso Stiamo questi qui intanto a caricare A fare le loro cose Dovrebbe funzionare Spostiamo tutti su upper left slot Ok In questo modo sono abbastanza sicuro Che avrò più Acceleration wand Di quelle che effettivamente servono Tra l'altro Andiamo a prendere altri stichettini Perché ne avrò bisogno 8 stichettini Non hanno una batteria interna Quindi non possono essere estratti Perché io ho messo un filtro Che estrae solo gli oggetti Che hanno una carica Inferiore al 25% Quindi a rigor di logica Dovrebbe funzionare E dovrebbe funzionare anche bene Potenzialmente In questo modo Ognuno sarà sempre Con un acceleration wand All'interno E noi abbiamo risolto Il nostro problema Guarda quante ne avevo in più Davvero tante 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 in più Potrei avere troppe Acceleration wand Ma è giusto giusto Funziona? Non funziona Perché non gliele rimanda? Dove sta mandando tutte ste cose? Scusa Ok qua è arrivato Qua è arrivato Qua non è arrivato Qua non arriva Non arriva Può essere che lo levate tutte? Ora dovrei inserirne Finché non funzionano tutte All'infinito Ah no Aspetta qua c'è un errore Speriamone un po' Mi piacerebbe comunque Averne un paio Sempre disponibile Così mi tenne ricarico una L'altra va in giro Ok qua addirittura Ne abbiamo un paio Messe da parte Anche qui sono messe da parte E siamo a cavallo Ne abbiamo troppe ora Va bene Va bene Ora quando attivo questo Vediamo differenza Oppure no Aspetta devo avere uno slot libero Ah Se la matematica Non è un'opinione Ha una certa Perché ora non la leva? Ma soprattutto Perché stanno crescendo Anche senza Beh in effetti Crescono come vogliono Però se crescono così tanto Senza darmi troppa roba È secondo me Perché non va L'acceleration wand Forse è quello il problema Ad esempio Perché non me la leva? Dovresti levarla? Ho capito Non la leva perché non ha uno spazio Dove andare Non ci sono abbastanza Energetic infuser Infuser Non vanno abbastanza veloce forse Forse devi craftare altri upgrade Se non sbaglio L'ho inseriti nella transmutation table Proviamo a vedere Giro, 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 giro Eccoli qua Extra speed upgrade Spendiamone No 64 sono troppi Però è un inizio Che tipo tutto venga Estratto istantaneamente Da qui Quindi posso fare così È un overkill pazzesco 15 extra speed upgrade Non vi serviranno mai Nelle energetic infuser Infuser Però Meglio di niente Cioè possiamo farli Non dico che sono gratis Ma quasi Spammiamoli sti cosi Perché no? Abbiamo quasi mille uova Non capisco perché Però prima era ancora più veloce Cioè già ora Vedete la differenza È Molto più veloce Molto più veloce Ora tra l'altro deve aspettare Che riesca a switchare Tutte le cose E poi fa tutto Cioè riesce a fare Però Di base Come posso dire Va molto più veloce Genero molte più robe Quindi direi a questo punto Teniamolo permanentemente attivo Tanto Cioè crescono anche Senza dover utilizzare L'acceleration wand Poi l'acceleration wand Guardate Cioè finisce in un battibaleno Che giustamente Cioè Con questo accanto È come se non servisse L'ultima volta che ho giocato Sembrava essere Tipo la svolta Che ne generava Talmente tante Da far schifo È arrivato davvero A avere tipo 40-50 mila Dragon egg essence Qua dentro Poi magari non ce la fa neanche Guarda quante uova faccio Ok no Se me le sto generando Le sto generando Solo che non me ne rendo conto Scusate Proviamo a disattivare L'extract Per un momento Mettiamo tipo brown Così non può arrivare di là Vediamo quanto ne genera Eh ne fa tipo 100 Più di 100 al secondo Non è più di 100 al secondo Le fa Ecco Vedete che queste Non sono poche Non sono poche Quindi possiamo rimettere green Fare tutte cose Extra speed upgrade Dammi tutte le uova del caso E siamo tutti contenti Poi inserendo Il speed upgrade Lui riesce a rimuovere Uno stack al secondo Cioè più di uno stack al secondo E ti ritrovi con tutte Ste robe belle Se li bruciamo Non ci servono Le acceleration buono Le bruciamo Che non ci servono Le lasciamo solamente una Per quando ci servirà Magari Per Per le uova Non lo so 8 miliardi Attenzione 8 miliardi Posso fare No Posso fare la dry Costa 6 miliardi questa Cosa speravo di fare Pensavo di avere 8 miliardi da parte Invece è il valore Va bene Mentre lasciamo qui A fare tutte le sue cose Generale La dragon egg essence E a farci tutti i nostri Dragon egg Che sono davvero tanti Ma sono davvero belli Li mettiamo tutti qua Guarda qua Guarda Un bel milioncino Ogni mille Prendo un miliardo Non è male Non è male Potrebbe andare peggio Comunque andremo a generare Perché se non sbaglio Dovrei aver creato Da qualche parte Una snowball Coso Anzi Dovrei avere delle snowball Semplicemente Eccole qua Ne ho 5 mila Figurati Allora andiamo a creare Una delle cose Per cui ho iniziato a fare Le snowball Cioè la doll La doll 0k 0 kelvin La andiamo a craftare Me lo dovrebbe far fare Senza problemi Zing doll Eccola qua Cosa mi manca? La netherworld Damn Basta prendere un fungo Per fortuna il fungo ce l'ho Ce ho E non solo Ne ho tanti anche Per fortuna perché la netherworld Era una cosa a cui non avevo proprio pensato Va bene Ci siamo Abbiamo una 0 kelvin Però per farla funzionare Questa abbiamo bisogno del pirotium Di un liquido pirotecnico Qualcosa del genere Non lo so Allora facciamo Facciamola Prendiamola Ok c'è un reinforced conversion kit Tanta roba Neanche tanto Però vabbè Comodo E Facciamo la spawnare però Già che siamo qui Blazing pirotium Come si fa il blazing pirotium Blazing Piro Questo liquido qua Ho bisogno Ho bisogno Dalla No Dalla mucca no Pirotium dust Ok Dovrei averlo Il pirotium dust Ne prendiamo un po' E ho bisogno di un magma crucible E dovrei avere anche quello Tra l'altro Magma Ok Perché sai che Forse ho nomeato l'achievement Ma l'ho già fatta Sta roba Questa che mi fa spawnare questo Il blitz Ma sai Io sono abbastanza sicuro Di averlo fatto No Si mi sembra di si Il magma crucible L'ho cassato apposta E tutta sta storia Che mi ha dato poi La blitz road Perché non mi aveva dato La ricompensa Allora per non saperne leggere e scrivere Prenderò comunque un barrel E proveremo a fare Se riesco a prenderlo Preveneremo il barrel Lo piazzerò qui dentro Comunque non è che mi faccia male Ficurati si è sconfitto Lender chicken E sto amichetto qua Non mi fa nulla Però allora Piazzerò questo un attimino Metterò dentro il periodismo dust Finché non mi fa un secchiello Mi da 250 Perfetto E come me lo ricordavo Quindi voglio dire Non capisco sinceramente Ok abbiamo un secchiello Prendiamo anche il secchiello Giustamente E lo andiamo a inserire là dentro Mi sembrava di averlo già fatta sta roba Non lo so Magari mi sbaglio Può essere Magari era un'altra cosa simile Perché c'erano anche altre cose Che avevano bisogno Di essere messe all'interno Di secchi strani Non lo so Questo posso piazzarlo per terra Tra l'altro Sono curioso Posso piazzare Posso Ho preso tutto fuoco Ok evitiamo di piazzare Sta roba per terra Che sarebbe magari il caso Lo mettiamo qua dentro E ci mettiamo questo qua Ora va lento con la morte Prendiamo il time in a bottle Va così Siamo tutti contenti Abbiamo il nostro blizz Che è morto Perfetto Perfettissimo Perfettissimo Siamo proprio contenti E Proprio Sì Contenti Contentissimi Tratto il conversion kit È una ficata Perché non è un upgrade kit È un conversion kit Quindi se lo salvo Posso far sì che tutti i miei macchinari Siano di base Reinforced Tanta roba Tra l'altro Stavo pensando di Prendere una specie di Non lo so Cavo di conduit Ed estrarre tutte queste cose Automaticamente Perché Ridendo e scherzando Comunque io Il tempo di gioco Ne tiro fuori Non poco E sto portando a casa Un po' di neutroni Ne ho 40 pezzi Cioè posso fare altri lingotti Non è male Ho 6 lingotti Non sono pochi Considerando il costo effettivo Di uno di questi Ma noi continuiamo a fare schifo Mi verrebbe da chiedere Se va tanto più veloce Con o senza Perché noi stiamo comunque Sprecando un botto di energia Non che Non ne abbiamo Nel senso Energia possiamo andare avanti Fino a dopodomani Tranquillamente Questi Ah no Però sono a secco Ecco sono tutti a secco Tutti a secco Orca vacca Orca vacca Ok No Disattiviamo subito Abbiamo finito l'energia Ti rendi conto? Abbiamo finito l'energia Quindi Disabiliteremo Questo input Come posso disabilitarlo Delete Aspetta Non voglio cancellare Voglio solo disabilitare Esatto Ora non stiamo più dando output Quindi questo finirà Davvero a breve Vedete che Se io provo a levare questo Non funzionano E vanno alla stessa velocità Quindi Cioè È questo cosa che ho p Non c'è bisogno di usare tutte le Acceleration wand Cioè Il macchinario è figo Mi è piaciuto farlo Ma non serve E almeno così posso recuperare Un po' di energia Che dici Che goduria Che goduria Forse non è male Forse non è male Mi verrebbe da fare altri Reinforced Altri Resonant upgrade Così questi fanno più energia Però forse non è il caso Comunque stiamo vedendo Che produco 10.000 Tick 10.000 di energia Per tick Non è tanto Se consideriamo Che se facessi Una farm Tipo questa Però di netherstar E poi li mettessi All'interno di un generatore Di netherstar Mamma mia raga Cioè Spaccheremo tutto Spaccheremo tutto Esiste un generatore Netherstar Generator Questo coso Non è neanche difficile A craftare Anzi Sono abbastanza sicuro Di poterlo Lo craftiamo Lo craftiamo Per sfregio Perché voglio provarlo 1.000 rf per tick Massimo tenerlo Tenerlo lì Però vedete Che l'energia Che generiamo Fa 30.000 Perché in un secondo Ci sta Non fa fare 30.000 Forse perché c'è l'upgrade Quindi va più veloce Posso avvicinarmi Non troppo Fai a vedere Non bisogna stare lontani Dal resonant Vale 6.000 Certo Non sarà mai Nella vita Resonant Quello che mi dà lui Mi darà quello basic Però Tanta roba Magari questi Voglia Sarebbe la svolta Se io prendo Uno di questi Ha un valore Di MC Di 70.000 Non è male 70.000 Porca vacca È anche tantino No Scusa Ma posso anche salvarlo Già carico Incredibile Vuoi dirmi che posso Fare quello Che penso Di poter fare Ok Non me lo dà carico Però ho un Vibrant capacitor Coso Cioè Capite Quanto Quanto è potente Questa cosa Ne prendo una serie Tipo 20 E ora vediamo Che cosa vi combino Ora Ad esempio A me non interessa Più di tanto Vedere l'interfaccia E cose varie Comunque verrebbe mostrato Qua sopra Potenzialmente Quello che posso fare È andare qua sopra Ripiazzare quello base Qui Scavare in alto Dove c'è tutta questa Marble che è stata Piazzata per sbaglio Tra l'altro Fare così Poi alla volta Salire E piazzarne Un altro Un altro Un altro Un altro Ma ancora un altro Un altro Un altro Un altro Andare su Di altri due livelli Capisci che Ora capisci Perché dico che Assolutamente Ho piccola roba Ora ho uno spazio Di 625 milioni Ci vuole un po' A finire 625 milioni Non tantissimo Perché comunque Non è tantissimo Però Insomma Capite Posso Upgradarlo Finché voglio Sto coso Energia Non ci manca Energia Inteso come IMC Aspetta Se faccio così Si blocca Ah no È una questione Proprio Sua di pratica Ok Tanto io Finché Me ne sto Lontano Quasi Quasi Prendo I miei Netherstar Li metto dentro E me ne scappo Così non prendo danno Tanto io me ne sto Di là A fare le mie cose E qui Genero però 30.000 A tic 30.000 A tic Molte liga Per 20 E ottieni Energia Al secondo Non è poco Non è poco Qui nel frattempo Mi ritrovo Con i miei 2000 Dragon egg Pocca vacca Vabbè prendiamoli tutti Prendiamoli tutti Finché non cadono per terra Guarda Vedi qua Tutti per terra Mamma mia Guarda quanta energia Tiempi l'inventario E butti via E vai avanti così Finché non diventi ricco E finché non finiremo Tutte le missioni Ovviamente non tutte le missioni Possono essere fatte così Sarebbe davvero troppo overpowered Però Una cosa che possiamo fare È Ah posso fare un altro di questi Deer No posso fare solo la dry Guarda qua C'è tutta l'escalation di stelle Che ficata Ci sono tante cose Che non possono essere Diciamo Non è un cheat Perché non è un cheat Devi fare un culo Così per arrivare A questo punto nel gioco Però È come barare Come dicevo Qualche episodio fa Fatto sta che ci mancano Ancora delle missioni Qui Ci mancano queste Che sono delle cagliettine Magari poi le faccio Storage Ci mancano questi Che sono interessanti Anzi serviranno anche Per creare alcune cose Delle extreme crafting Se non sbaglio Poi li abbiamo fatti tutti Manca anche qui Un paio di robettine Le mucche Non le abbiamo ancora iniziate Ma sono interessanti Perché ci sono alcuni liquidi Che sono davvero interessanti Mystical agriculture Non è un problema Possiamo finirla Domani stesso Anche qui Della draconic evolution In realtà possiamo fare tutto Perché con il fatto Che ora possiamo Duplicare le cose Siamo a posto L'unica cosa È lo spawner Che dovrò andare a cercare Perché non è che Te lo possono dare Qui è un po' più complicato Come sapete Perché bisogna sfruttare C'è la towncraft Che non abbiamo ancora iniziato Ma non dovrebbe essere Troppo complicata Ma è interessante E poi c'è l'extreme crafting Che è quella finale Che faremo Perché sarà quella più difficile Ma ci darà un botto Di roba Davvero 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 Ragazzi Io per questo video Vi dico Che è tutto Ci vediamo Prossimamente sul canale Con altri video Domani alle 7 La nuova serie delle 7 E niente Io un saluto Ciao a tutti A tutti Ciao a tutti